è una partita che ci siamo sudate tanto e nonostante tutto il campionato ci siamo meritate ed è quello che ci succede oggi insomma è stata una partita sofferta no? perché avete rincorso praticamente per tutto la gara abbiamo rincorso tutta la partita e sapevamo che sarebbe stata difficile e ci abbiamo messo di tutto diciamo che in generale queste finals stanno dimostrando veramente tanto equilibrio in tutte le partite sì sì infatti tutte le partite che abbiamo fatto non sono state equilibrate e tutto è finito all'ultimo e ce la stiamo mettendo tutta per arrivare in semestimale